Ma perché mi faceva ridere proprio il pretesto, l'idea che tuo figlio sia superdottato e non te ne sei mai accorta. Perché è vero, perché quando io ho un figlio di 14 anni, insomma, ti occupi di lui e lo vedi nudo fino a, diciamo, la prima media. Poi nelle medie cominciano a chiudersi dentro il bagno e non li vedi mai più. E quindi non sai che cosa succede di loro, degli sviluppi loro. Io è in gamba, cioè fa ridere tanto. E poi è una comicità diversa dalla mia, io sono aggressiva, sono cazzuta così. Invece lui è sempre un po', sembra questo guscio di demenza che lo fa viaggiare, insomma, come un... Ha quello sguardo del coccodrillo che ha ingoiato un capibara, no? Così, con l'occhio un po' lucido, un po' sempre dove sono finito, ma è questo il mio posto, che però è molto divertente. Ma perché è senza capire, è un po' lucro di un po' lucro? Ma perché è un po' lucro che ha scopo, è un po' lucro, è un po' lucro di un po' lucro. Grazie a tutti o kisratun minal jununi tajaluhu yusafir innaho timsajo laddiptala a capibara alaysa ke dalik ha cada ma aaini kalilan mushrika wa kalilan daiman haythun tahit walakin hadha huwa makani alladzi lakinnahumumti on jiddan però, bakit ako natatawa sa pretexto ang ideya na ang anak mo ay gifted at hindi mo ito napansin Dahil totoo iyon chiedi quando sono un figlio anche per la mia figlia, potremmo si vedere e che si è il ciò che fino alla prima di high school. Tutami di gettito su un anno, ma non sivolta, ma non siatever esheitside, non si può essere venuto, ma non si più raggiunge, è una cosa molto che è molto molto, ma è un'amico su amore, a un'amico è aggressivo, sono così, nel falso che è un'amico, come la città che l'ultimo, che c'è l'ultimo, come la mia scottata, come la mia città, è l'ultima di una capibara, non? Quindi non è l'ultima che non è più che l'ultima, ma è il mio lato, ma è l'ultima, ma è l'ultima che sono stato a me, è stato un lato, ma è stato un lato, ma perché è stato un pollo che tu non è un uomo, è stato un pensiero, che si è stato un pensiero, ma è stato un pollo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.